Noi di centro scioglie la riserva insieme ad essere democratici ufficializza nella sede di via Aldo Moro il suo candidato alla presidenza della provincia di Benevento. Si tratta di Nino Lombardi, la sua azione se dovesse giungere ad aguantare lo scranno della rocca dei rettori sarà improntata su condivisione, ascolto, continuità e unità. Sarà, dichiara Lombardi, la presidenza di tutti voi in nome del sagno che non è più un'area da assistere ma un territorio d'eccellenza. Io se mi sono trovato in questo momento a fare il vicepresidente lo devo dire, sono la conseguenza di una scelta fiduciare di Antonio Di Marino e quindi io credo un applauso. Credo sul dato della continuità, forse lui è arrivato nel momento, forse pure meno bene della provincia quando anche un verrio aveva di fatto, voglio dire, smontato le competenze. Quindi aveva organizzato una provincia, non è stata secondaria anche una programmazione e tante sono state le cose che ha messo il cantire e che insieme troveremo in modo, voglio dire, per far rifiorire quelle che sono le aspettative del nostro tavolo. Quindi grazie a te Antonio per la vicinanza, la nomina, ma anche, voglio dire, per quello che ancora vogliamo fare insieme. Con la presenza di Clemente che sta a guidare il comune Capolupo, possiamo credo e colorare ancora belle pagine non solo per il sagno, ma per il periodo dei nostri comandi. Grazie.